Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Don't Starve. Nello scorso episodio siamo riusciti finalmente a trovare la Wood and Ting, ma c'è un però. A forza di entrare ed uscire da queste wormhole, ho perso quasi tutta la mia sanità mentale. E questo è un problema, perché la prossima volta che entro in uno di questi affari potrebbe essere l'ultima. Dobbiamo trovare una soluzione, Gabby pensa, una soluzione per recuperarla. Deve esserci qualcosa in questo luogo che mi possa aiutare? E forse mi è venuta un'idea. Vi ricordate i funghi blu? Lo sappiamo tutti che donano sanità mentale. Se riusciamo a cucinarli in un fuoco, possiamo recuperarcela quasi tutta. Direi che allora iniziamo a prendere tutti quelli che vediamo in questa zona, e poi dobbiamo pensare un modo per farci un fuoco. Da queste parti sembra che ci sia pure un keleofante, e potremo anche darci la caccia. Sapete perché? Perché grazie ad un keleofante possiamo farci un vestito nuovo di zecca. E probabilmente il livello dopo di questo è un livello di perenne inverno. Devo pure stare attento a questi maledetti tentacoli che non mi lasciano vedere le tracce. Ok, da quella parte. Dato che questa è una zona piccola, il keleofante non può essere andato molto lontano. Quindi magari è andato vicino ai bordi dell'acqua da qualche parte. Dov'è la traccia? Eccola qui. Ma come? Si è buttato in mare o qualcosa del genere? No! È un keleofante ubriaco perché fa i girotondi. Non si capisce dove va. Cioè ma che razza di giri fa questo keleofante? Va bene, comunque non ci vorrà molto. Non ci vorrà molto. Poi io ho anche con me la fire staff e allora lo bruciamo proprio tutto. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare così dopo... In queste zone ci sono anche molti ragni e possiamo farci tutte le ragnatelle necessarie per completarlo. Ok, qua c'è un'altra traccia. Benissimo, no! Siamo vicini alle rane. O forse combattono con i quasi meccanici. Ok, perfetto. Stanno combattendo. Benissimo. Lasciamo che si uccidano a vicenda. Noi non interferiamo con niente. A me fa sempre comodo. Mmm, ok. Penso che questa sia l'ultima. Me lo sento. Perfetto, lo abbiamo trovato. Eccolo lì che si nasconde dietro gli alberi. Ora, dovremo sfruttare i tentacoli per massacrarlo. Deve andare sui tentacoli, per favore. Da, là ce n'è uno. Penso che dovremmo dargli fuoco in qualche modo. Sì, ok. Ok, ora ha preso fuoco e dai tentacolo. Ok, è andato sul tentacolo. Perfetto, proprio ciò che volevo. No, non venire da me, vai dai tentacoli. Per favore. Perfetto. Ora è ostile a quel tentacolo e si ammazzeranno a vicenda. E io posso prendermi tutto. È proprio ciò che volevo. Ok, devo anche mangiare un po'. Benissimo, grande tentacolo. Mi ha aiutato tantissimo. Ora però devo anche liberarmi un po' di spazio. Ok. Pian pianino mi prendo tutto. Quel tentacolo stai buono. Ok, io devo solo prendere un paio di cose qui. Tu stai buono. La proboscide. La cosa più importante. Abbiamo tutto. Ora possiamo andarcene da questo luogo. Anche perché sta venendo notte e dobbiamo farlo in fretta. Allora, mi è venuta un'idea per la sanità mentale. Dato che non ho erba per farmi un campeggio, penso che ritornerò nella zona api in fretta. Dov'è che si ritornava? No, questa wormhole ci porta in un'altra isola perché ci mancano ancora due oggetti e questa puntata io mi voglio impegnare. In questa puntata voglio cambiare mondo. Ce la farò. Ora mi impegnerò al massimo delle mie possibilità. Userò tutto il mio ingegno per sopravvivere. Ok. Questa è una zona piena d'erba. Potremo metterci a cucinare anche quei funghi blu per recuperarci la sanità e passare questa notte. O se no, possiamo fare la via veloce e andare direttamente dalle api. Solo che penso che sia un po' dura acamparci lì. Perché con tutte quelle api di notte no, no. È troppo rischioso. Questo è un luogo sicuro. Un oasi proprio verde, senza ragni, senza niente. Perciò andrò qui. E dovremo anche metterci a collezionare un paio di ragnatele. Quindi lascio la Purple Gem. Tanto non penso di portarmela nel prossimo mondo. e comunque non scompare. E prima che venga notte ci procuriamo un paio di queste erbacce. Eh, tu basta! Maledetto, lasciami in pace. Ah, perfetto. Mi ha droppato anche una delle sue ghiandole. Così abbiamo quasi la vita al massimo. Eh no! Mi hanno... Ecco. Li ho svegliati tutti. Non volevo fare male al vostro amico. È lui che è venuto. Ecco, bravi. Tornatevele da dove siete venuti. Adesso, finché tramonto, mi procuro un paio di risorse. Benissimo. Di legna, quanta ce ne ho? Ce ne ho nove. Penso che mi basta. Ok, ci possiamo accampare ora. Tanto sta venendo notte. Questa torcia la metto qui sotto. E iniziamo un po' a vedere cosa possiamo fare. Intanto penso che inizierò a mangiarmi un po' di carne cotta. Dobbiamo, perché il nostro stomaco è messo male. Ecco, vediamo un po' quanto. Mamma mia, ok. Abbiamo di nuovo lo stomaco pieno. E ora possiamo metterci a cucinare questi blue cap. La nostra sanità mentale sarà messa molto meglio dopo averli mangiati. Benissimo. Ok, guardate, guardate come sta salendo. Ah, sono pure sparite le ombre. Ecco, vattene. Bene, 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 bene. E possiamo anche cucinare la proboscide? Non sapevo si potesse cucinare, ma sarebbe uno specco. Aspettiamo soltanto che venga giorno ora. Siamo riusciti a sopravvivere anche questa notte. Ci possiamo incamminare verso la palude dei ragni. Dobbiamo procurarci un paio di ragnatele e ancora un po' di vita. Lì c'è un tentacolo, l'ho visto. Quindi stiamo attenti, molto attenti ai tentacoli. Mi devo prendere la ragnatele in fretta? Benissimo. Siamo riusciti a fregarlo, qui c'è un altro. Dove ci sono le ragnatele, praticamente ci sono anche i tentacoli. Perché è lì che praticamente hanno ucciso i ragni. Ok, qui un'altra, un'altra. Ce ne servono circa otto, mi pare. Per avere tutto il necessario per farci una Breezy West. Ok, ce li abbiamo. La vita com'è? Quasi al massimo. Quindi l'ultima ghiandola. E ora dovremo essere al completo. Beh, quasi. Va bene. Allora, abbiamo detto sanità mentale. Dobbiamo praticamente avercela al massimo. Quindi dobbiamo tornare dove ci sono le api. Ovvero qui. Mi prendo anche la Breezy West. Tanto ne crafterò una nuova. La cosa buona della Breezy West è che se ce la mettiamo addosso ci farà anche essa recuperare sanità mentale. Ora che siamo di nuovo nel paradiso, proprio il paradiso questo è, cominciamo a raccogliere tutti i fiori che troviamo. Stando bene attenti a tutte queste api che veramente ogni volta mi rompono. Ma ormai basta andare veloci, vedete? Si corre, si prende il fiore. E adesso penso anche che vado un attimo nella foresta e aspetto un secondo che si calmino le acque, per favore. Ma sono proprio delle api senza ritegno. Mi seguono anche dentro la foresta. Comunque le abbiamo seminate. La sanità mentale deve essere circa 200 perché dovremmo attraversare circa altre 2 wormhole. Secondo i miei calcoli ho 3. E quindi la sanità mentale deve essere molto alta per fare tutto ciò. Ce l'ho fatta, ci sono riuscito, abbiamo di nuovo 200 di sanità. Ora dobbiamo soltanto tornare nella wormhole. Ce la faremo? Si, proprio ciò che volevo. Abbiamo praticamente tutto, siamo salvi. Salvissimi. Allora, dov'era la Wood and Thing? Dobbiamo usare il portale che abbiamo trovato lì, praticamente, ora. E forse se ce la facciamo dobbiamo farci anche una nuova Science Machine per farci la nuova Breezy West. Ma ogni cosa a suo tempo. Ora che siamo di nuovo qui, non mi spreco nemmeno ad uccidere i nemici, a fare niente. Cambiamo subito zona e vediamo in che isola finiamo adesso. Vediamo, allora, qui sembra che ci sia tutto il necessario per farci una nuova Science Machine. La Science Machine si faceva, mi pare, con del legno, delle pepite d'oro. Quindi un secondo che mi metto a distruggere tutte queste rocce. Ma com'è che non mi droppano pepite? Queste sono le rocce delle pepite. Ah, finalmente ecco ne una. Vediamo come si faceva una Science Machine. Del legno, della roccia e delle pepite. Abbiamo tutto, tranne la roccia che adesso me la faccio. Metto un attimo via il dardo. Yeeeeh, Science Machine, bentornata fra noi. Allora, sui dress, vediamo. Breezy West, come potevamo farlo? Potremmo farci anche un top hat, ma io volevo il Breezy West. Com'è che non posso farlo qui? Non ditemi che si fa con l'Alchemy Engine. No, Breezy West. Alchemy Engine. Oh, come è che si faceva un Alchemy Engine adesso? Con della roccia lavorata, delle assi. Oh, merda. Oh, adesso devo lavorarmi le assi e tutto. Va bene, faremo anche questo, non preoccupatevi. Penso che lo farò off camera. Ma intanto vediamo se in questa zona c'è un oggetto. Vediamo un po'. Sto andando nella giusta direzione. Questa sembra essere l'isola dei cani. Dove sono finito? Datemene via. Però sembra che qui è pieno di ossa e forse queste ossa gli danno distrazione. Niente, qui abbiamo trovato un'altra Wormle che probabilmente ci porterà nell'ultima isola. Perché ce ne mancano due. Più o meno penso che ci sia un oggetto per ogni isola. E ci stiamo avvicinando. Oh, e poi ci sono anche quegli alberi stranissimi. E ho sempre la fobia che si possa trasformare in un giant tree. No, abbiamo trovato pure Chester. Grandissimo Chester. Il problema è che non lo posso portare da un'isola all'altra. Comunque me lo tengo con me. Può offrirmi distrazione per questi ragni. Abbiamo trovato anche l'oggetto che ci serviva. Ora dobbiamo correre ad accamparci. Non posso accamparmi di notte in mezzo ai ragni. E quando viene notte mi attaccheranno tutti. No, no, devo tornare al sicuro. I cani sono un po' più sicuri. Allora, vediamo se riusciamo a fare una cosa che voglio. Ok, ora sto tornando proprio notte. Veloce, 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 veloce qui. Ok. Dimmi che posso farmi un fuoco, ti prego. Ok, qui lo posso fare. Ok, benissimo. Ora massacriamo questo. Bene. Non dirmi che li ho svegliati tutti. Stanno venendo o mi lasciano in pace? No, stanno venendo. Ok, mori anche tu. Ok ragazzi, adesso io mi procurerò tutto il materiale che mi serve per un Alchemy Engine. Quindi adesso farò un piccolo taglio e ci vediamo tra poco quando ce l'ho già pronto. Benissimo, penso di avere tutto il necessario ora per farmi l'Alchemy Engine. Sì, a posto. Ce lo abbiamo. E ora dovrei finalmente farmi la Breezy West. Ok, eccola qui, una nuova di zecca. Quella da 37 la posso anche lasciare per terra. Non penso che mi servirà più. E siamo quasi pronti. Ci manca soltanto un'isola. Ora fatemi controllare che ho tutti gli oggetti perché alcuni li ho droppati da quell'altra parte. Quindi dobbiamo raggiungere quell'altra wormhole. Riprendere gli oggetti e ci siamo. Ora sono proprio curioso dove siamo finiti. Ah ok, praticamente siamo finiti in un luogo pieno di buffalo. Non deve essere tanto difficile. Vediamo un po' allora dove andare. Sono molto vicino. Perciò l'ultimo degli oggetti deve essere proprio da queste parti. Cerchiamo un po' intorno. Vediamo se andiamo in questa zona. Ok, is going crazy. Che fortuna l'abbiamo già trovata. Abbiamo praticamente tutti gli oggetti. Ve l'avevo detto io che in questa puntata mi sarei impegnato. E la finiamo veramente in fretta. E forse riusciamo anche a giocarci un po' il prossimo mondo. Ok, Chester allora mi segue. Pensavo che non mi potesse seguire fra una wormhole e l'altra. Allora potremmo anche portarcelo nel prossimo mondo, Chester. Se metto dentro il bastone. Potremmo già avercelo. Non sarebbe una brutta cosa. Penso che siamo proprio a posto. Abbiamo la sanità mentale molto alta. La vita al massimo. E il cibo anche che esso è molto alto. Quindi adesso torniamo dalla wooden thing che dovrebbe essere qui. E ci muoviamo nel prossimo luogo. Ok, siamo di nuovo qui. Allora, non vedo nemmeno più i nemici. Si sono tutti massacrati a vicenda. Ok, allora. No, no, ce n'è ancora uno invece. Ce n'è uno proprio lì. Non posso nemmeno farmi un fuoco? Merda. Forse mi sarei dovuto portare un po' di legna. Ma ormai non c'è più tempo per pensarci. Perché volevo recuperarmi un po' di fame. Vabbè, mangiamoci tutto. Dato che non possiamo portarci gli oggetti. La carne non so se mangiarla cruda. No, non mi conviene. Mangiamoci anche i petali. Così, mangiamoci tutto. Cerchiamo, insomma, di finire gli oggetti. Di non sprecarli. Allora, le cose che voglio portarmi sono il berretto. L'armatura. E poi anche la breezywest. Ok. Sono cinque, mi pare, gli oggetti che ci possiamo portare. Forse anche la carne, così abbiamo qualcosa a mangiare. E queste due armi. Anzi, la carne forse non la porto. Ok, ho già capito cosa voglio portarmi. Iniziamo a costruire l'affare. Allora, crankting. La ringting. E cosa mancava? La boxting. Non ho messo tutto. Ah sì, mi stavo dimenticando che serviva una chiave qui. Ok. Ora l'abbiamo creata, ma sta venendo note. Ma guarda te, proprio ora che l'ho attivata è venuta notte. Ma questa sì che si chiama sfiga. Oh, va bene. Dobbiamo usare la solita tecnica, ragazzi, di dare fuoco alle cose che vediamo in giro. Cerchiamo una zona con degli alberi. Potremmo andare qui dove c'è la casa della rana. Speriamo solo che la rana non sia ancora viva. E dobbiamo fare in fretta, allora. E stare anche attenti ai tentacoli. Ok, allora. Vediamo. Chiamo fuoco a sto affare. No, c'è ancora il mostro rana. Ma perché? Perché ci deve essere? Ora, bruciamo di nuovo anche questo. Vabbè, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ok. Ora vediamo se riusciamo a metterci tutti gli oggetti in santa pace. Allora. Non voglio attivarla così. Ah, ok. Cavoli, pensavo che potevamo metterne cinque. Invece sono soltanto quattro. Allora, fatemi pensare. Berretto. Breezy West. La Fire Staff. Direi che è un'arma migliore del Tentacle Spike. Al limite quello ce lo possiamo sempre fare in qualche modo. Va bene. Penso che siamo pronti per partire nel prossimo livello, allora. Si parte. Let's go. Ma dove andremo a finire ora? Uno di voi mi ha scritto nei commenti che sarebbe stato il regno del perenne inverno. You survived seven days. Beh, ce l'abbiamo fatta in modo veloce. Anche la scorsa volta, mi pare, circa in sette giorni ce l'abbiamo fatta. I due mondi. Two worlds. Niente. Non è il regno del perenne inverno. Com'è? Facciamo un patto. Tu stai qui e ti fai un accampamento. Ti darò cibo, oro, maiali. Tutto quello che ti serve. E non ho capito l'ultima cosa ma vi lascio una nota. Oh, io pensavo che sarebbe stato il regno del perenne inverno. Ma questo che razza di regno è? Mi sembra come di essere più veloce. È stranissimo. Comunque quegli oggetti che abbiamo ottenuto ce li teniamo comunque. Ok ragazzi, io non so che cosa sia questo luogo. So che abbiamo una tenda. Forse è un mondo facile. Però veramente mi sembra di essere più veloce o sbaglio? Boh, non lo so. Questo mondo mi sta facendo paura. Secondo me è pericoloso. Non so. Ho come l'impressione che sia un mondo molto difficile. Va bene, sapete una cosa ragazzi? Io penso di concludere questo episodio di Don't Starve qui. Nel prossimo cercheremo di capire dove siamo finiti. Magari se lo sapete già voi, datemi qualche consiglio. Ah, dei maiali? Un villaggio pieno di maiali. Sembra un mondo semplice. Sembra però. Ok ragazzi, io penso che questo sia tutto per questo episodio di Don't Starve. Spero che vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!